Ciao a tutti amici e bentornati sul mio canale, sono Marco e questo è SpaceMess. Come avete letto nei titoli, qualche utente furbacchione di subito ha cercato di fregarmi. Han ci ha provato in ben due modi, il primo in fase di vendita, il secondo in fase d'acquisto, ma vi spiegherò tutto tra poco. Ma prima di iniziare ragazzi, iscrivetevi al mio canale qua sotto, attivate la campanellina per poter avere gli aggiornamenti sui prossimi video. In questo periodo stavo cercando di vendere tramite la piattaforma subito il mio iPadone gigante, 12.9, 128GB di memoria e la versione Wi-Fi. Dato che comunque volevo utilizzare il ricavato per acquistare la nuova versione perché volevo testarla, ho deciso di metterlo sulla piattaforma di subito. Ma che cosa è successo? Ok, partiamo dall'inizio. Sono andato sul sito di subito, ho preso le foto del mio dispositivo, ho messo sotto le caratteristiche e l'ho sparato in rete. Appena l'annuncio è andato online ho ricevuto subito la richiesta di un utente che mi chiedeva Ciao Marco, ma è ancora disponibile il tuo prodotto? E io, certo, è disponibile, l'ho messo in vendita, è disponibile, l'ho messo tre minuti fa, è normale che è disponibile, se non era disponibile non lo mettiamo in vendita. Ovviamente questo qui, Capitanovio, mi dice Ok, effettueresti la spedizione? Sul mio annuncio c'era scritto, effettuasi anche spedizione. Ma con Capitanovio c'è sempre da imparare. Sì sì, ciao, sono interessatissimo, fammi il calcolo delle spese e io te lo compro. Ehm, cosa? Mai successo? Mai successo in tutta la mia vita che qualcuno non mi abbia chiesto anche un euro di sconto? Ma questo qui, ho detto, vabbè, forse dopo il post-lockdown la gente ha incominciato a spendere di più, ho detto, vabbè, andiamo avanti. E gli dico, va bene, va bene. Per il vaccino. Ok, dopo il post-vaccino sicuramente questo qui era stata una persona vaccinata e ha detto, vabbè, la calamita, anziché attaccarla sul braccio, se l'ha attaccata sulla fronte e gli ha smosso il neurone. Ha detto, vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti. E io dico, ma quanto me lo faresti? E gli dico, guarda, compreso le spese di spedizione, compreso Paypal, compreso anche la pulizia di casa tua, facciamo che te lo faccio pagare tot. Va benissimo, sì, io sono contento di questa cosa, va bene, spediscimilo a questo indirizzo. E io dico, sì, ok, io te lo spedisco, ma prima tu mi paghi. Sì, va benissimo, in che modo ti pago tramite Paypal? E io dico, cavoli, così, senza nessun problema, va benissimo, io mi paghi tramite Paypal, io pago le spese di Paypal, tu sei sicuro e tutto andrà benissimo. È nella mia testa. Ma c'era qualcosa nell'aria che diceva, non farti fregare Marco, questo qui è troppo tranquillo. L'acquirente perfetto, c'è la suggeritrice. E mi dice, mandami la tua email, e dico, va bene, ok, gli sparo la mail tramite il sito di subito, cercando di scamuffare perché subito non vuole che metti la mail, gli metto dentro la mail, ebbene, sapete cosa succede? Ha, mi arriva un messaggio da Paypal che dice, questo è il codice di sicurezza, non darlo a nessuno, si cancellerà entro dieci minuti. E penso, cosa è successo? Io non sono andato su Paypal. Un altro messaggio, questo è un altro codice, non darlo a nessuno, si cancellerà tra dieci minuti. Il furbacchione, lo sapete cosa stava facendo? Vi spiego subito come ha cercato di inchiappettarmi. Ha fatto questo, ha preso la mia mail, è andato su Paypal, ha messo la mia mail, e ha cercato di entrare in mio account. In l'account, da essendo protetto, cosa ha fatto? Mi ha mandato un codice di verifica. E questo simpaticissimo interlocutore dall'alta intelligenza, cosa ha fatto? Mi ha chiesto, tu mi hai richiesto un codice, e adesso cosa faccio? Eh, perché io sono pirla e andavo a dargli il codice che mi era arrivato. E gli ho scritto, senti, guarda che non è che mi puoi fregare, non ci vuole così poco per fregarmi. E chissà come mai, è svanito del nulla. Nel mio pensiero è stato, mo' lo prendo e lo denuncio alla polizia postale, ma penso che loro hanno beghe molto più grosse rispetto a questo personaggio che ha cercato di fregarmi, ma anche perché comunque sicuramente era un personaggio che ha rubato il nome e tutte le credenziali, perciò avrei fatto un buco nell'acqua. Perciò vi dico ragazzi, attenzione, se qualcuno non fa storie per il pagamento, poi c'è le case eccezionali, questo non so, non io dirlo, però se qualcuno non fa storie, vi dice che vi fa il pagamento, non fa proteste per la spesa, è tutto, e vi chiede la vostra mail e poi vi viene richiesto un codice, non datelo mai a nessuno. E questo qui è il primo tipo di truffa che ho subito in questo periodo. Secondo tipo di truffa che mi è arrivato sempre dalla bellissima piattaforma, che è subito, è sicurissima come piattaforma, veramente non ci si può stare tranquilli, ah no aspetta, si dovrebbe dire ci si può stare tranquilli, ma è al contrario, dovete sempre avere le orecchie ben tese, perché la piattaforma di subito è satolla di catfish. Com'è stato il secondo? Il secondo è stato ancora più subdolo, però c'è sempre qualcosa che vi dovrebbe allarmare, niente, volevo comprare il Mac Mini col processore M1, perché volevo provarlo? Mac Mini, processore M1, mediamente costa sull'ordine del migliaio di euro, e usato lo si riesce a trovare anche a 600-650 euro. Bene, vado su piattaforma subito, ricerco il mio bel prodottino che volevo testare, dato che comunque sono un amante di questo prodotto, e ne trovo uno, 650 euro più spedizione. Ti mando il messaggino, ciao, ti contatto per il dispositivo, è ancora disponibile? Certamente, mandami il tuo numero di telefono, così ci mettiamo d'accordo. E dico, vabbè, qual è il problema? Cosa succede? Che questo personaggio mi manda subito, tramite Whatsapp, il contatto con la sua bella fotina, il numero di telefono, e mi dice, ciao, senti, ok, se sei interessato, te lo faccio, 560 euro spedito. Io non gli avevo chiesto nessuno sconto, non gli avevo chiesto niente, perciò parto dal dire, non è normale come cosa, cioè non ti ho chiesto neanche lo sconto, e tu già me lo fai? Però ho detto, vabbè, potrebbe essere che questa persona conosce un pochettino il mercato, ha detto, voglio venderlo presto, e te lo faccio a questo prezzo. No ragazzi, perché cosa è successo? Eh, semplicissimo, questo personaggio mi dice, per il pagamento io faccio solo tramite bonifico. Eh, e il gesto dell'ombrello è partito subito. Cosa gli ho detto? Guarda, onestamente io con il bonifico non lo posso fare, perché ho ricevuto molte fregature, perciò, guarda, io posso fare solo tramite Paypal. Eh, ma mia non lo so, perché me l'hanno bloccato, e io cosa faccio? Se ne ha detto che me l'hanno bloccato, non so come fare. Aspetta domani, che ti faccio sapere. One eternity later. Cosa è successo? I grilli. Non c'era nessuno. Nessuno mi ha risposto, ecco, arriva la sera e dico, ma, senti, bello ciccio, hai novità in merito? Ho notato una cosa, era cambiato la foto del profilo Whatsapp. Non sembrava più lui, sembrava un'altra persona. aveva cancellato l'annuncio e la sua foto di profilo era cambiata completamente. Ma, si è deciso a venderlo? E mi dice, no, no, guarda, non lo vendo più. Bene, dopo qualche altro giorno, perché mi sono mantenuto il numero, ha cambiato ancora l'immagine e il profilo, ed era un'altra persona. perciò, attenzione anche lì ragazzi, non mettete molte foto delle vostre faccine, delle vostre cose, perché ci sono questi scammer che vi ciucciano la foto e la mettono al loro profilo per cercare di fregare gli altri. Ma come si argomentava tutta la truffa? Semplicissimo, queste qui vi diceva, ok, ve lo faccio pagare, la 650 euro, te lo do a 550, bene, ok, pagamento con bonifico, bene, ok, tu fai il pagamento e lui ti manda un mazzo di fiori, ma neanche quello, oppure vi manda la scatola col mattone senza il mattone perché non voleva neanche spendere soldi in merito. Perciò, attenzione, state molto attenti. Ieri però ho notato un'altra truffina che fanno questi bellissimi esemplari che dopo il Covid si sono dovuti rinnovare e cercare di sbalcare. Si sono moltiplicati, sì certo, la suggeritrice dice si sono moltiplicati e stanno cercando di espandersi, diventare sempre molto più intelligenti. La truffa dei 1000 euro. Vi arriva sul vostro conto PayPal 1000 euro e vi dicono ah, scusami, ti ho mandato 1000 euro in un modo erroneo, me li ripotresti rimandare indietro? Te! Ti rimando niente indietro, lo sapete perché? Perché ragazzi funziona così. Questi bellissimi esemplari cosa fanno? Prendono, rubano la carta di credito, fanno un pagamento a un'altra persona, quell'altra persona dice si si ok, te li rimando indietro, cosa succede? Che la banca sa che la carta di credito è stata rubata o è stata clonata, cosa fa? Blocca il pagamento e recupera i soldi e cosa succede? Che vi ciucciano i 1000 euro a voi e quell'altro invece ce li ha belli in saccocia. Perciò, state sempre attenti ragazzi e aprite bene bene gli occhi perché questi bravissimi concittadini della nostra madrepatria Italia stanno diventando sempre più furbi. Ci sono sia persone che arrivano dal nord, dal sud, dal centro, ma ci sono anche i bravissimi personaggi dell'Africa. Però state molto attenti perché subito è una piattaforma ottima per poter vendere ma è anche ottima per poter prendere la fregatura. Spero che le mie disavventure vi abbiano dato la possibilità di non rimanere fregati. Se è così mettete un bel pollice in su, attivate la campanellina e iscrivetevi se vi fa piacere. Vi aspetto al prossimo video e come sempre be smart ragazzi e ciao a tutti!